Grazie alla segnalazione di un cittadino al 112, nella notte appena trascorsa, i carabinieri di Ravenna a Sant'Alberto hanno messo in fuga alcuni ladri che probabilmente avevano deciso di trascorrere l'intera nottata urbana nelle case dei centri abitati fuori Ravenna. Al seguito della segnalazione del cittadino, i militari della stazione di Sant'Alberto impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno intercettato una Fiat Panda con due uomini a bordo che era stata segnalata a girarsi con fare sospetto nel forese. L'auto, che procedeva a velocità ridotta, appena notati i carabinieri, è immediatamente accelerato tentando la fuga. Ne è nato un inseguimento, ma di breve durata, poiché i due occupanti della Panda hanno deciso di abbandonare il mezzo e di tentare la fuga nei campi. Per coadiuvare l'intervento della volante dei carabinieri, a Sant'Alberto sono giunte altre pattuglie ai vigili del fuoco di Ravenna, i quali hanno partecipato alle ricerche dei due fuggitivi, mettendo a disposizione alcuni fari campali per illuminare l'intera area. Purtroppo, le ricerche hanno dato esito negativo. Nell'auto rubata a Rimini, invece, i militari hanno trovato oggetti da scasso e della refurtiva che sarà restituita ai proprietari.